Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video dei due nardini sul tubo Io sono Lavu E io sono Ryuk E benvenuti in questo nuovo fantastico spacchettamento E mostra il nostro pacchettino di oggi Ragazzi ovviamente nuova espansione Oggi parliamo Pokemon Go Pokemon Go Pokemon Go Ragazzi sono le macchine ragazzi Oggi abbiamo un microfono solo Ed è praticamente qui dietro voi non lo vedete Dietro l'iPhone Quindi è un po' un problema Sarà un po' un problema Speriamo che l'audio si senta bene Perché purtroppo oggi è tardi E ci sono un sacco di macchine E' buio Un sacco di macchine Quindi è un casino Sarà un bel casino montare questo video Yeah Niente Direi di partire subito Spacchettiamo Spacchetta Spacchetta Vuoi far vedere Allora Fantasia 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 so che non ci paga Ma se ci vuoi che ti pagare Qui sotto trovi per contattarci Un link referral Un police sconto Esatto Trovi per contattarci Magari Esatto Le mail per contattarci la trovo in descrizione Tranquillamente Nell'ipose Se vi va Compriamo sempre da voi Yeah A parte dei scherzi Ragazzi Fantasia Bisogna dire Che è uno Dei pochi store online Che fa dei prezzi Buoni Ottimi Molto buoni Quindi Guardatevi che bellezza Ragazzuoli È molto bello Un po' sempliciotto Dove dire la verità Io pensavo che questi puntini qua Fossero dei problemi di stampa In realtà Il cielo stellato Ci sta Ci sta invece Passa un Un trattore Un bambino No Un bambino Mi dissocio Da ciò Che sta Dicendo Lavo Io Dunque ragazzi No appunto Espansione Siete allenatore Tattico Di Pokemon Go E ci sono state Varie Collezioni Varie edizioni Possibili Inimmaginabili Ho optato Semplicemente Per siete allenatore Per ora Sì Diciamo Per adesso Poi magari Potrebbe Uh Fai vedere anche l'interno Dopo della scatola Molto bellino Molto caruccio Guardate Ci sono le cose Di Pokemon Go C'è Censi C'è un Geridos Che sono tutti Artwork Di carte Bello L'Arvita Bellino Sì è proprio fatto così L'ho visto ieri Pikachu C'è il Pokestop iPhone di là Esatto E poi vabbè Di qua c'è il Mewtwo Eh sì Cattivissimo Cazzottissimo Come sempre Vendevano Il Mewtwo Alternative Oggi in italiano Uno lo vendeva A 350 euro Ragazzi Allora Diciamo che Le carte più interessanti Sono Vernusal Lucente Charizard Lucente Blastoise Blastoise Lucente Poi abbiamo Il Mewtwo Viastro Bellissimo Molto bello Abbiamo anche Degli artwork Molto belli Come questo qui Di Larvitar Questo qui Dei Tyranitar Molto molto bello Poi Passiamo alle carte Ficciose Bellino Abbiamo Dragonite Bellino Invie Viastro Ditto Che potremmo trovarlo In versione Reverse Beedoof Reverse Beedoof Di solito Bellino Poi abbiamo Le carte Queste qua Queste qua Le più premium Diciamole così Quella più importante È Mewtwo V Alternative Il Dragonite E anche lui Perché è sempre Quello Alternative E poi vabbè ragazzi Ci sono Le Hyper E le Gold Le Gold Mewtwo Gold Naturalmente Ah e poi Ti serve Una musica per giocare C'è un ditto Ditto sempre bellissimo Ditto sempre bellissimo Bellissimo L'effetto Perlasio Sì l'effetto questo qui Molto molto bello Apriamo Vediamo cosa c'è Dall'iPhone Si vede molto bene L'effetto stellato Che Volevamo ricreare appunto Esatto Vediamo cosa c'è Abbiamo le buste Non male Carine Sempliciotte Sì Ci stanno Il Mewtwo Stavo per lanciare via Oh Il Mewtwo Vi Full Art Promo Ci sta Molto Molto bello Molto bello Ragazzi c'è il tavolo Che balla Però Non possiamo farci nulla Le Le L'idato I dadi I dadi Il dado Perché questo qui È il dado Quello figo Sì 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 Molto bello Sempre c'è lo stellato Molto bello Poi vabbè ci sono le cose Poi ci sono le cose divisorie Belle Molto belle L'energie ragazzi Come ogni video Quando ci sono gli spacchettamenti Energie E via E finiscono fuori Il giardino No 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 Poi ci sono le cose viastro E abbiamo Praticamente Dieci Fottutissime Buste Vai amore Scegli Scelgo cinque buste Eh sì Quanto ne vuoi scegliere Scegline una Io scelgo Questa E poi scelgo Allora dai Va bene Io scelgo Questa Mi ispira molto Io scelgo l'ultima Poi apri tantissimo Ragazzi L'ultima E dentro C'è una holo C'è una holo Sicurata Ah sì Un holo assicurata Ok Poi voglio Questa qui Poi voglio ancora Questa E dai E vai Allora inizio io Vai inizio tu Voglio farti sempre per ultima Lo sai Va bene Partiamo da questa ragazzi La sento veramente 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 Molto pesante Sono pesante Sono molto pesante Adesso vogliamo capire Un attimino Il perché Vediamo Oddio La busta Oh sì La busta già Si spacca In mille pezzi Belle marce Vediamo già un pikachu E niente Niente che parla Allora uno Questo è Qua Che Qua Che c'è Non le vedi Oh sì Guarda Sì Tipo arrotondate In camera Non si vede Non si vede Però è tipo È tipo un effetto Arrotondato Stranissimo 1 2 3 4 Sembra liscia No Ruvida Dai 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 Semiruvida Dai dai Non perdiamo troppo tempo Non perdiamo troppo tempo Allora Censi Molto bellino Spark Evisaur Energia Molto bella questa energia però Pikachu Squirto Squirto L'Arvita L'Arvita subito Spinarak Winepud Gollispod Infatti Poi partiamo subito Con Silvio No Infatti l'avevo detto Era qualcosa di Era qualcosa di Sapevo Interessante Vabbè però dai Dai va bene Partiamo con le Olo Partiamo con le Olo Ragazzi Sono solo Olo Sì nel senso Non lamentiamoci Non lamentiamoci Si parte con calma E poi si carbura Con un diesel Quindi Si Si carbura Con un diesel Queste booster Ragazzi fanno abbastanza Cacare È vero 1,2,3,4 Oh ruvidona 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 Ma gli shiny Tipo sono Penultimi 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 Esatto Allora Candela Candela Guardtotl Caramella rara Energia Wimpo di nuovo Piduv Intanto ragazzi Il bordello Le spalle Magikarp Meltan Vedo già qui Qualcosa che Vibra Sì Eevee Un altro Wimpo Allenatore Boom Ricerca accademica Hyper Bellina Partiamo già con un hyper Ragazzi Bellina 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 C'è entrata Ragazzi Meno male Vediamo se riesco a aprire una busta A modo Giusto per lasciarla Poi è molto difficile Anche da inserire Nella bustina Eh non ti piegare Molto dai Sono riuscito a aprire Forse una busta a modo Però mi è rimasta una carta Tenta E allora E insomma E insomma Almeno la busta l'ho aperta Bene Allora Vola No Allora Triccheggio 1,2,3,4 Intanto tengo il tavolo Non ho capito 1,2,3,4 C'è Come ultimo a questo Boh Lasciala lì Vediamo cosa succede Ma in che senso ragazzi Boh Boh Vabbè Posso è di solito Al posto No Invertite prima Perché hai visto No 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 Rimesso come prima Boh Vabbè Vabbè Allora Natu War Toto di nuovo Bello Stilix Blanche Iphone Slowpoke Bello Bibarello Bibarello Un smigol Spinarac Charmillion Una gold Ma Una gold Ma Taglie Un altro allenatore Che palle Cubosice di uova No Vabbè Ma che ne sai Una delle tre gold Si possono trovare Comunque Sì no Certo Però volevo Mewtwo Volevo Mewtwo Capito Vabbè Mewtwo Comunque ragazzi Un hyper Una gold Una gold Cioè Tre pacchetti Oh A te guarda E vabbè Si è spaccata questa Incredibile Comunque sia Come ci sia Stata una viastro Al posto Della Della Dell'ultima carta Boh Boh ok Però c'è anche l'energia In mezzo No Allora boh Uno Due Tre Quattro Ruvida La penultima Dai Charizard Oh Allora 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 Pupitar Pupitar Vai Modulo Esca Anzenfanzan Energia Piduv Onix Eevee Charmander Ipom Zblastoins Zblastoins Eeeh Sì Sì Cazzo Sì Il più sminiti Ragazzi Il Radiant L'abbiamo trovato È storto È storto Non è meno troppo Dai Nemmeno troppo No Cosa dici È storto tutto a sinistra Vabbè Bello Il Radiant Ragazzi Bello Il Radiant Bello Ragazzi Il Radiant Bisogna anche Velocizzarci ragazzi Perché sta diventando buio Sì Sennò Non riusciamo Eh sì Anche se no poi si surriscalda la Sonia Anzi Vado un'occhiata Vai Ultimo Il Radiant Ragazzi Ultimo 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 Per ora Non vorrei cantarvi Troppo presto Però Insomma Per ora niente male Diciamo che ripeto Nell'ultimo Nell'ultimo set allenatore Che voi ancora non avete visto Non lo vedranno mai Giusto Non l'abbiamo registrato Non lo vedranno mai No ragazzi Vabbè Ragazzi Allora cosa faremo Faremo una clip su TikTok Quindi un reel su Instagram Su TikTok eccetera E mi raccomando Seguiteci su TikTok Così vi mostriamo L'altro set allenatore Di Destino Splendente L'abbiamo aperto recentemente Che abbiamo trovato Ragazzi Abbiamo trovato il mondo Ragazzi Quindi c'è Da vedere assolutamente Mi raccomando Seguiteci su TikTok I giorni sul tubo Link in descrizione Dai Bello Bello Allora Google Buzz Qui non c'è niente Mi sa Ariados Spark Censi Bellino Nubel Tranquil Bello Bello Pikachu Bello Pikachu Dove la posizionano Ragazzi Adesso Change 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 Abbiamo i nostri Pacchettonci Perché Il discorso è O tutto il pool Erano in queste 5 buste Però Alcune erano pesantine Ti lo dì la verità Io vorrei Un bel Charizard Io vorrei Anche Venus La bustina Ce l'abbiamo La posso Disintegrare Ecco Così Ma certo Allora Pogliamo questa 1 2 3 4 Assolutamente Niente Assolutamente niente No invece c'è qualcosa Oh shit Se ho visto bene Mewtwo Fullite No si Vabbè Dai Se ho visto bene Mewtwo Fullite Allora Charmillion Incubatrice uova Solrock Energia Marcina Se ho visto bene Mewtwo Biff Si Ragazzi Sì Onyx Charmander Bidoof Che però è quello normale Peccato Non è il dito L'arbitre reverse Oh Mewtwo Non è un Mewtwo L'abbiamo visto Però non è il full art alternative Vabbè È una V Quindi Non è il full art alternative Però È sempre un Mewtwo Si parte da quelli semplici Vai Duke Time Booster Io un tanto spacchetto Perché sennò ragazzi Qui diventa troppo 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 Buio Anche se Vedo che Sia il telefono Che Vabbè Il telefono Chris Che anche la macchina Riesce Tutto lo stipendio Che ci abbiamo messo Sopra Insomma Vorrei vedere Che Peccato per gli fps Che ha i cali di fps Ma vabbè Quello È qui per via Che è Puglietto E quindi Naturalmente Si Cerca di Ottimizzare Riaccoci ragazzi Piccolo cambio di inquadratura Di sicuro Perché se l'ha spenta la sony In conseguenza abbiamo dovuto Rimpostare lo zoom Eccetera Comunque L'abbiamo rimasti così Non mi sono mossa Bellino L'obro Un macigno Potrebbe esserci il mondo Ancora Questo è un macigno Comunque L'occhiata che avevo visto Prima Del Sì Vabbè Bello Eh sì Ci sta C'era quasi Mi dovesse Un po' il tavolo Amore Che sennò Qui balla tutto Vai 1 2 3 4 Niente Che paga Come prima Poi invece era Una Eh sì Vediamo Modulo esca Pokestop Lunaton Energia Slowpoke Bidoof Sempre normale Magica Si trova Bidoof Numel Ghirados Bello Però 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 Ha trovato tutto Ryuk Ragazzi Ha trovato tutto Ryuk Immaginati se Spacchettavo anche Persino Mewtwo Epico Eh sì Sarebbe stato epico 5 a 0 Per Ryuk 4 a 0 Perché? Vabbè Sì Nel senso Quello sì Certo Allora 1 2 3 4 Grazie Niente Niente Ha trovato tutto Ryuk Per davvero Evisaur Lunaton Slowbro Energia Bidoof Rattata di Alola Wimpod Pikachu Un altro Squirtle Spinarak Tyranniter Tyranniter Bello però Lui lo volevo Tyranniter Bello Tyranniter Bello Leono bisogna dire Però ancora non abbiamo Trotto doppioni Quindi Va bene Ragazzi Ultima busta Però questa via è leggerina Se questa via è leggerina E c'è qualcosa Mi incazzo Mi incazzo Come una iena Da Almeno una gioia Datemela Datemela Una gioia Una fucking gioia Sì Vabbè Una vita Hai avuto Life Per la gold Il culo Insomma Oh È liscia No È liscia Ma è una vita Niente di presto Ma direi Dragonite Speriamo Allora Camerut Caramella rara War Tato Un'altra energia Bedoof Meltan Charmander Apom Bulbasaur Un altro Bulbasaur Reverse Sì è Dragonite No Come potrebbe essere Dragonite È un marrone Perché Dragonite È un marrone Eh vabbè ragazzi Con Keldurby Però che pull Sì ma che tristezze Volevo il Dragonite Volevo qualcosina di più Dai Vabbè Quello ragazzi Vabbè il pull Il pull non è Sì il pull Non è malvagissimo Cioè anzi Allora se avremo L'opportunità Compreremo anche Quell'altro set Di Dragonite Sì Quindi però lo vedrete Tipo settembre Ottobre Eh sì Probabilmente se avete L'opportunità Cioè se abbiamo L'opportunità Lo prenderemo Ci sono comunque sia 8 buste Mi sembra Ah buono 8 o 10 buste Allo stesso A minor prezzo Del coso Del setembre E ti danno pure La ball Molto bello E niente Molto molto bello Comunque dai Su 10 buste Su 10 buste 5 ci sta La metà La metà Il Radiant Però Vale tutto Bello il Radiant Penso che vale tutto Bello il Radiant Bello 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 Ora non ho visto Il pull degli altri Youtuber eccetera Però È uscito oggi Eh sì Tanta tanta roba ragazzi Bello Bello in pull Cioè Non si può di nulla Dai A voglia di dire Noi ma è sorto Ma chi se ne frega È sempre una carta figa Andiamo Anche Charizard è storto Sì con tutti i storti Dai Però dai Ci sta qualcosa Un attimo di diverso Come dico sempre Qualcosa di diverso Bisogna apprezzare un attimino L'innovazione Anche se Gira di gira Sono sempre queste cose Ragazzoli Purtroppo si è scaricata La Sony Proprio è un momento clou Comunque beh Stiamo semplicemente Sì mostrando Le ultime cose Stiamo dicendo Appunto Ci sta Che a ottobre Magari spacchiamo di nuovo Il set di Dragonite Visto che cambiamo Quel poemon Quindi Ci sta Avendo la possibilità È tutto Vediamo un attimino Non promettiamo nulla Vediamo un attimino Se riusciamo Comunque Diciamo appunto Ottimo pull Tutto sommato Su 10 buste 5 Diciamo che 70 euro Stonks Sì No 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 Quello sicuramente Soprattutto per Radiant Abbiamo trovato tutto Radiant Gold Hyper E Manca il viastro Manca il viastro Niente ragazzoli Quindi a noi Per ora è tutto Mi raccomando Un bel mi piace Se il video vi fosse piaciuto Vi ricordo di seguirci Su Instagram Su TikTok Mi raccomando Dove mettiamo Tutti i nostri Aggiornamenti Tutti i video Che escono Spacchettamenti vari Scene tagliate Che magari Non avete qui su YouTube Mi raccomando Ragazzi Seguiteci E niente Un abbraccione Dalla Sniper E niente Bella